La filiera dell'acciaio del centro-sud ha consolidato l'aumento del fatturato del reddito netto, ma ora dopo un bienio molto positivo c'è incertezza per il rallentamento della domanda e la volatilità dei prezzi. Se ne è parlato nell'ultima tappa di bilanci d'acciaio all'Unione Industriale Napoli, l'acciaio visto dal sud e martedì su Siderweb torna mercato ed intorni con il bilancio dell'anno. Acciaierie d'Italia, ancora nulla di fatto, l'Assemblea dei Soci è stata rinviata per la seconda volta a mercoledì 6 dicembre. Il primo nodo da sciogliere è il rafforzamento finanziario della società. FIM, FIOM e WIM scrivono a Meloni e ai ministri competenti, gestione fallimentare e impianti deteriorati. Buongiorno e benvenuto all'appuntamento con il Siderweb Tg. La filiera dell'acciaio del centro-sud ha consolidato nel 2022 gli ottimi risultati del bienio precedente in termini di fatturato e reddittività. Ma ora però preoccupano il rallentamento della domanda, fa volatilità dei prezzi e la generale incertezza. È quanto emerso durante l'ultima tappa all'Unione Industriale Napoli, del tour di presentazione di bilanci d'acciaio, lo studio di Siderweb che ogni anno analizza dal punto di vista economico-finanziario migliaia di bilanci della filiera dell'acciaio. Ecco i principali risultati elaborati dall'ufficio studi Siderweb. Ultima tappa di bilanci d'acciaio 2023 a Napoli, siamo scesi per la quinta volta a raccontare il centro-sud e abbiamo raccolto le testimonianze dei protagonisti. Che cosa ha rilevato l'indagine? Per quanto riguarda la parte alta della filiera, quindi la produzione di acciaio, distribuzione, centri servizio, commercio rottame e taglio lavorazione alla miera, in Italia abbiamo analizzato il bilancio di 1.669 aziende, delle quali 148 al centro Italia e 124 al sud Italia. Per quanto riguarda in particolare le aziende del sud Italia, quindi sud più isole, abbiamo visto che lo sviluppo del fatturato nel 2022 è stato più lento rispetto al resto d'Italia con un più 5-8% contro il più 16-6% dell'Italia e questo gap è dovuto soprattutto al settore della produzione che nel centro-sud è cresciuto del 2% contro un 20% in Italia. Dal punto di vista della redditività, per quanto riguarda valore aggiunto EBITDA, i dati del centro-sud, in particolare del sud, non sono molto distanti a quelli dell'Italia, sono distanti di qualche decimale di punto, ma la cosa da sottolineare secondo me è che mentre in Italia nel centro l'anno migliore del triennio tra il 2020 e il 2022 è stato appunto il 2022, nel sud l'anno migliore è stato il 2021 e il 2022 c'è stato un leggero deterioramento dei risultati di qualche decimo di punto percentuale. In questa occasione di bilanci d'acciaio a Napoli ha presentato i dati macroeconomici sull'Italia, cosa dobbiamo aspettarci? Allora abbiamo visto a livello macro che le previsioni per la crescita del PIL in Italia sono tra il più 0,5 e il più 1%, per quanto riguarda invece l'acciaio abbiamo visto una domanda reale che resterà stabile o avrà una piccola crescita, invece la domanda apparente quindi influenzata dal ciclo delle scorte tendenzialmente avrà un risultato migliore verso la crescita del 7% per l'Europa e del 5% per l'Italia. La domanda ha rallentato sensibilmente in questa seconda parte dell'anno ma ora il consumo apparente è in ripresa, così ha spiegato durante la tavola rotonda seguita la presentazione delle analisi Luigi Rapullino, amministratore delegato del gruppo Rapullino e Sideralba. Che prospettive ci sono per l'acciaio al centro-sud per il 2024? Il settore dopo due anni vissuti è solido, quest'anno comunque si è ritornati un po' a vivere le marginalità del pre-Covid, però comunque le strutture patrimoniali sono forti da parte comunque di tutto il comparto siderurgico, quindi al di là di quello che sarà l'economia il settore ha le spalle solide per affrontare qualsiasi tipo di situazione che possa nascere. In merito al discorso dell'economia penso che comunque ci sia una crescita almeno per quanto riguarda il discorso del consumo apparente, che questo dovrebbe sicuramente migliorare. Poi ci sta questo impulso di prezzi in aumento per il primo trimestre dove ormai sono consolidati, quindi diciamo che comunque guardiamo il 2024 con delle prospettive e con delle aspettative sicuramente positive. Mentre per il vostro gruppo Sideralba il 2023 che anno è stato? Il 2023 è stato un anno di ulteriore consolidamento dei volumi, delle tonnellate. abbiamo registrato qualche chilo in più rispetto all'anno scorso, ma più che altro perché l'anno scorso nell'ultima parte dell'anno abbiamo cercato comunque di difendere la marginalità visto che comunque avevamo prezzi in ingresso delle materie prime alte. Il programma di investimento continua ad andare avanti e non viene rallentato a parte qualche tema della burocrazia, però continuiamo avanti su questo percorso. Mentre sul fronte degli investimenti avete in programma qualcosa? Sul fronte degli investimenti noi siamo concentrati sia su un discorso di crescita interna che di crescita esterna. Crescita esterna che valutiamo opportunità che ci potrebbero essere sul mercato e quindi quelle là vediamo e aspettiamo un po' gli eventi. Per quanto riguarda la crescita interna, come dicevo prima, stiamo portando avanti questo piano di investimento quinquennale e nonostante l'aumento dei tassi di interesse, nonostante comunque l'arresto della domanda, noi comunque lo continuiamo a portare avanti e a sostenere. E si è detto positivo anche Enrico Fornelli, direttore commerciale del gruppo Beltrano. È un anno che avete presentato il progetto Calibria, che riscontri avete avuto sul mercato internazionale? Direi sicuramente positivi con delle differenziazioni ovviamente, direi molto positivi essenzialmente nel nord Europa dove i clienti già acquistano o esclusivamente Calibria o hanno addirittura dei magazzini dedicati solamente al materiale tipo Calibria. Questo è dovuto non per il fatto di essere più avanti di noi, ma per una questione direi essenzialmente culturale, tedeschi. Anche i tedeschi ultimamente hanno decisamente accelerato anche da questo lato, abbiamo chiuso degli accordi anche lì con i più importanti e sicuramente con il più importante distributore tedesco. In Italia in questo momento cosa posso dire? C'è essenzialmente grande attenzione. Posso dividere il mercato in due, alcuni utilizzatori hanno già richiesto anche loro materiale Calibria, penso al settore navale, penso al settore agricolo, abbiamo chiuso degli accordi con la Berco per esempio che è un grosso utilizzatore e ultimamente anche con il gruppo Sider Center. Siamo ormai alla fine di novembre di questo 2023, a fine anno, che prospettive avete per il prossimo anno? Per il prossimo anno direi, è nato un momento, in questo momento qua proprio un pochettino il cambiamento del mercato dovuto a questo innalzamento repentino soprattutto del Rottame, siamo in un momento in cui la, diciamo così, il consumo apparente si sta trasferendo di nuovo da noi verso quella che è la nostra clientela. Che sia l'inizio di una vera ripresa non lo so, onestamente in questo momento qua immediatamente non lo vedo, io vedo una prima parte dell'anno, se posso permettermi il termine così, continueremo a surfare su questi, intorno a queste condizioni qua. Poi magari con una seconda parte dell'anno con una ripresa. Sicuramente a livello europeo un punto praticamente importante è quello che possa succedere in Germania. Quanto alla distribuzione è ora più che mai necessario puntare sul dinamismo e maggiori servizi. Ne è convinto Danilo De Giovanni, amministratore delegato di Movisid. Che anno è stato il 2023 per Movisid? Penso che il 2023 si chiuda anche meglio da un punto di vista di quantità del 2022. Ovviamente nell'ultima parte dell'anno, visto il calo dei prezzi, chiaramente le marginalità si sono ridotte, però c'è ancora una richiesta abbastanza forte da parte del mercato. Mi auguro che anche il 2024, l'inizio dell'anno, possa comunque essere di impatto per dare sì un abbio fiducioso per tutto l'anno prossimo. Ecco, proprio l'acciaio al centro-sud, su cosa deve puntare il prossimo anno per poter riuscire a crescere ancora? Allora diciamo che fondamentalmente secondo me dobbiamo puntare sul servizio, sul dinamismo delle aziende, su dare una risposta puntuale, concreta ai nostri clienti. Noi viviamo di tante aziende che hanno una bella storia siderurgica e dei comparti che esportano anche dei semi lavorati e dei semi prodotti. Quindi sono fiducioso che dando più servizio e più efficienza e logistica potremmo essere più performanti. E nell'ultima tappa di bilanci d'acciaio si è parlato anche del ruolo degli istituti di credito nel percorso di crescita della filiera. Secondo Giancarlo Ventimiglio di Biperbanca, per il comparto acciaio le prospettive appaiono ancora solide per i prossimi anni. Dottor Ventimiglio ci apprestiamo a concludere un anno che ha visto dei cospicui rialzi nei tassi di interesse. Che cosa avete riscontrato nel rapporto con le imprese? Certamente il rialzo dei tassi di interesse riduce la domanda di finanziamento da parte delle stesse e accentua la competitività e la competizione tra le banche per cercare di continuare a sostenere l'economia reale in un quadro molto più selettivo di domanda da parte delle stesse. È chiaro che noi abbiamo la necessità di mantenere sempre oltre che la copertura del costo del denaro anche la copertura del costo del rischio e questo ci porta molto spesso a dover in qualche modo immaginare anche dei tassi strutturati sul medio-lungo termine perché oggi i tassi a medio-lungo termine sono in un certo senso anche più vantaggiose dei tassi a breve termine con degli strumenti di copertura che possano in qualche modo indurre le aziende a preferire una forma di finanziamento a lungo piuttosto che le forme di finanziamento a breve termine. Certo è che è auspicio di tutti anche nostro che i tassi interesse si stabilizzano su livelli più contenuti che ci consentono di fare sostanzialmente il nostro compito di sostegno all'economia reale senza la complicazione di un aumento dei costi e appunto il costo del denaro che inevitabilmente incide sulle scelte delle aziende e da parte nostra comunque non verrà mai meno il sostegno nella ricerca magari di forme tecniche, di durate di forme anche di copertura che consentono comunque di trovare la soluzione giusta alle esigenze degli imprenditori. Che aspettative invece avete per il 2024 sia a livello macroeconomico che sul comparto acciaio? A livello macroeconomico è chiaro che tutto dipende sostanzialmente dalla dinamica dei tassi interesse e anche dalla ripresa della domanda internazionale. Ci fa ben sperare gli indicatori sull'export perché gli indicatori dell'export soprattutto anche nella regione in cui operiamo in Campania sono molto incoraggianti e sono incoraggianti in quei settori tra cui anche la lavorazione dei metalli che per noi rappresentano settori in, cioè settori dove la banca investe volentieri perché incontra controparti con fondamentali stabili e quindi con prospettive di crescita nel lungo periodo. E restando nel centro-sud Aste, nelle scorse ore ha confermato a Siderweb la volontà di dismettere Aste Turkey, centro servizi per l'acciaio inox da 30.000 tonnellate l'anno. L'asset era stato fondato nel 2011 con il nome di ThyssenKrupp Materials Turkey ed era rientrato nel perimetro dell'acquisizione di ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni da parte del gruppo Arvedi insieme ad un altro centro servizi in Germania. Per questioni legate all'antitrust resta il riservo sul nome dell'acquirente. La stampa turca ha però indicato che a rilevare il centro servizi dovrebbe essere Saritas Celic, il cui stabilimento si trova a poca distanza proprio da quello di Aste Turkey. E resta molto molto critica intanto la situazione di Acciaierie d'Italia. Dopo il secondo invio dell'assemblea dei soci, i sindacati sono tornati a chiedere una convocazione urgente. E mentre resta lo stallo tra socio pubblico e privato sul rafforzamento finanziario del gruppo da Taranto, Gianmario Leone. A seguito del nuovo rinvio dell'assemblea della Holkin di Acciaieria d'Italia, i sindacati di metalmeccanici nazionali hanno nuovamente scritto al governo, alla premier Giorgia Meloni e a tutti i ministeri interessati dall'avvertenza per chiedere un nuovo urgente incontro in virtù del fatto che questa avvertenza che oramai si trascina da tantissimi anni sembra essere arrivato al fatidico punto di svolta o per molti punto di non ritorno. In particolar modo dei sindacati sostengono anche di fronte alle ultime notizie provenienti dalla fabbrica, ovvero l'imminente fermata per due settimane al massimo dell'altoforno 2 che costringerebbe il più grande siderurgico d'Europa a marciare con un solo altoforno, ovvero il quarto, dopo che l'uno è spento dalla scorsa estate, starebbe spingendo quindi l'attività produttiva del siderurgico al rischio spegnimento perché un impianto così grande a ciclointegare con un solo altoforno se qualcosa dovesse andare storto nel ciclo della regolazione si fermerebbe all'istante. E a fronte di un'interlocuzione che prosegue tra i soci all'interno dell'assemblea della holding che ritornerà il 6 dicembre all'assemblea del CVA dei soci, tutti sono profondamente preoccupati. Lo scorso 11 settembre il governo firmò questo memorandum con il socio privato di cui si conoscono solo a grandi linee le tracce, ovvero il famoso piano industriale che già nel 2020 i Borselli e Bernabè presentarono i 4,6 miliardi che prevederebbe spese praticamente identiche nella loro divisione economica per il privato e pubblico, ma in realtà al di là di questo piano industriale diviso in quattro fasi spammabili in 10 anni che dovrebbe portare il famoso ciclo idrico con l'innesto dei forni elettrici insieme all'altoforno 5 che dovrebbe essere riammodernato e che invece ferma dal 2013, ciò che più preoccupa è il contingente. L'azienda continua ad avere grandi problemi di liquidità, il 10 gennaio potrebbe vedere lo stop a rifornimento di gas e quindi stiamo parlando di una società che ha urgente bisogno di liquidità, stimata pare tra i 300 e i 350 milioni, ma c'è chi parla anche di 500 milioni di euro per il pagamento delle forniture di gas e l'acquisto della materia prima. Motivo per il quale probabilmente dicembre di quest'anno sarà forse il mese decisivo per stabilire se il 2024 sarà, come anche previsto dagli accordi pregressi, l'anno definitivo della svolta per il siderurgico tarantino e quindi una ripresa verso il nuovo futuro o sarà l'anno in cui probabilmente l'ex Silva di Taranto scriverà la parola fine alla sua storia. Giornalio Leone, Taranto. E proprio per capire quali saranno le prospettive a breve e medio termine per l'acciaio nazionale, Siderweb ha organizzato l'ultimo appuntamento dell'anno con Mercato ed Intorno, il webinar che ogni primo martedì del mese fa il punto sulla congiuntura siderurgica. E dopo le presentazioni sul mercato nazionale e internazionale di Stefano Ferrari, Ufficio Studi Siderweb ed Emanuele Norsa di Callanis, la parola passa a due importanti rappresentanti della produzione e della distribuzione nazionale, Alessandro Banzato, Acciaieri Venete e Stefano D'Aprile, commerciale siderurgica Bresciana. La partecipazione come sempre al webinar è del tutto gratuita, basta registrarsi nell'area eventi webinar di Siderweb.com oppure sull'app Siderweb Eventi. Per questa sera è davvero tutto, grazie per l'attenzione, l'appuntamento torna venerdì prossimo, arrivederci!